Vabbè, vittoria molto importante per noi. Questa è la terza consecutiva nel giro di due settimane, anche con la Coppa Campania intrasettimanale. La partita è stata dura sin dall'inizio, perché loro erano molto atletici e molto fisici. Noi ci abbiamo messo del nostro e alla fine siamo riusciti a portare questa vittoria, molto soffita. Ora ci aspetta sabato prossimo la capolista, sempre in casa, e vi aspettiamo in tantissimi ancora più numerosi. Grazie. Grazie.